È stata un'occasione per valorizzare il territorio e l'alta qualità dei suoi prodotti. La quarta edizione dei mercatini di Natale a Ripalimosani, nonostante la pioggia e il gelo, ha riscosso successo coinvolgendo non solo la comunità ma anche numerosi turisti arrivati da Campobasso e dai paesi vicini. L'evento è stato organizzato dall'amministrazione comunale con il supporto di alcune associazioni presenti sul territorio. L'obiettivo principale e principe di questi mercatini sono quelli non solo di far conoscere il paese in quanto tale ma soprattutto di dare spazio e visibilità agli artigiani locali. La cosa che mi riempie d'orgoglio è che quest'anno rispetto agli altri anni ci sono degli espositori anche di fuori regione, della provincia di Benevento in particolar modo e questo ovviamente vuol dire che piano piano sta crescendo questo movimento. Io spero che riusciremo nel corso degli anni ad arrivare alle eccellenze e comunque alla notorietà diciamo dei mercatini più famosi che stanno in Italia. Tanti prodotti artigianali esposti a Ripalimosani tra i vicoli e gli scorci caratteristici del centro storico che hanno regalato il meglio del mei di Molise. Per questa quarta edizione anche il Palazzo Marchesale è stato aperto per accogliere espositori ed artigiani. Quest'anno per la prima volta il mercatino è anche in alcune sale all'interno del Palazzo Marchesale che è il luogo per antonomasia e per eccellenza più prestigioso di Ripalimosani. Un'occasione dunque per dare il via alle festività natalizie sotto il segno dell'amore per il proprio territorio e delle bellezze locali. Abbiamo replicato l'attività che abbiamo fatto l'anno scorso. Ci occupiamo di promuovere attività socioculturali del paese dei Ripalimosani per conto della nostra associazione ma anche quando vengono organizzate attività comunali e ci richiedono un supporto per organizzarle.